È una nuova sfida, sono molto contenta di poterla affrontare perché credo che in Europa ci sia sempre più bisogno di incidere in maniera forte, non a caso anche lo slogan che abbiamo scelto è in Europa da protagonisti, perché come Sistema Italia abbiamo necessità di rappresentare tutte le esigenze dei cittadini in primis, delle famiglie e del tessuto economico e quindi credo che la mia discesa in campo in qualche modo ci possa aiutare a rappresentare tutto ciò. Sono veramente felice anche perché da Terramana e da Abruzzese vorrei avere uno scatto un po' d'orgoglio del nostro territorio e rappresentare forse per la prima volta un Abruzzese in Europarlamento e quindi abbiamo necessità anche come regione di rispondere ai compatti a questa chiamata. Ringrazio Forza Italia per la fiducia che mi sta dando e ci sta dando anche al territorio abruzzese e penso che all'interno di Forza Italia è importante esserci perché come sapete Forza Italia è l'unico partito italiano che si trova all'interno del PPE che è il Partito Popolare Europeo e quindi questo darà a tutti i cittadini italiani ancora più forza di rappresentanza e di voce soprattutto all'interno dell'Unione Europea e quindi dico che votare Forza Italia è un po' come votare doppio perché ci darà una spinta fortissima voi sapete che il PPE è il partito che in Europa determina e determinerà e quindi spero di poter far parte della squadra e di incidere come abbiamo fatto insomma un po' durante gli anni trascorsi.